Sono iniziate anche nelle farmacie le vaccinazioni anti-covid con il vaccino monodose Janssen prodotto da Johnson & Johnson. Il nuovo servizio si aggiunge ai centri vaccinali, al lavoro dei medici di famiglia e alle vaccinazioni in azienda ed è destinato al momento alle persone che hanno tra 60 e 79 anni. L'accordo è stato firmato nei giorni scorsi tra Regione Federfarma Toscana e Conf Servizi Cisper Toscana. Ecco l'altro dei canali di vaccinazione, ovvero le farmacie. Naturalmente sappiamo che è un sistema da consolidare, sappiamo che a poco a poco, speriamo che possa allargarsi. L'obiettivo è a fronte di quelle 30, 33 mila, 35 mila al massimo vaccinazioni a cui possiamo arrivare con gli hub pubblici poter avere altri canali per, soprattutto nei momenti in cui arriverà il numero consistente di vaccini per andare sempre più nella vaccinazione di massa, ecco che questi sono presidi importantissimi. Per prenotare il vaccino in farmacia è possibile recarsi in tutte le farmacie comunali di Firenze oppure telefonare alle due farmacie che effettuano il servizio, cioè la comunale di San Nicolò e la comunale Europa. Ma dalla prossima settimana altre farmacie in Toscana inizieranno a vaccinare. Non dobbiamo trascurare nemmeno la qualità della vaccinazione. Cosa significa? Che bisogna anche continuare a ricercare la vaccinazione delle persone di 60, di 70 anni. Abbiamo per questo chiesto sia ai medici di medicina generale, sia alle farmacie di dedicarsi nelle prime due settimane di attività con Johnson & Johnson alla ricerca di persone tra 60 e 70 anni che non sono ancora vaccinate. All'appuntamento per la vaccinazione è necessario portare un documento di identità, la tessera sanitaria, il consenso e la scheda anamnestica compilati. Grazie a tutti.